Tramite un sistema in grado di fondere al suo interno un'elevatissima ricchezza di contenuti ed elementi che sembrano trasportati direttamente da un RPG, l'obiettivo di The Crew è quello di donare al genere dei racing multiplayer online un approccio corsistico del tutto nuovo. Ognuna delle diverse aree dell'enorme mappa del titolo Ivory Tower sarà comandata da una differente fazione alla quale ben presto il giocatore dovrà unirsi. La scelta sarà completamente libera e sarà sempre possibile controllare tramite un'apposita mappa le percentuali di influenza dei diversi territori con equilibri iniziali destinati a cambiare non appena i giocatori di tutto il mondo cominceranno a scendere per le strade di The Crew. Questo conflitto globale conterrà al suo interno componenti che gli stessi sviluppatori non esitano a definire social. Oltre a missioni in asincrono, co-op e pvp potremmo infatti scegliere di loggarci ai server del gioco per una semplice sessione di guida libera insieme ai nostri compagni. La principale attrattiva destinata a tenere impegnati i giocatori sarà comunque la grande varietà e la ricchezza di missioni sparse su tutta la mappa. Solamente all'interno delle modalità single player le competizioni che si avvicenderanno tra loro comprenderanno classiche gare in cerca del miglior posizionamento, sfide contro il cronometro, sessioni in cui eliminare un avversario tramite speronamenti e fughe dalla polizia. Ognuna di esse per essere affrontata richiederà una particolare categoria di auto. Anche scegliendo di dedicarsi alla guida libera in The Crew sarà possibile imbattersi in molte tipologie differenti di sfide secondarie, tutte utili a guadagnare crediti extra, punti esperienza e nuove componenti per i propri veicoli. Anche in questo caso la varietà sembra più che buona e la rigiocabilità garantita grazie alla possibilità di verificarne le leaderboard online i risultati ottenuti dai propri amici. La modalità competitiva di The Crew, nonostante una buona diversità di tracciati ed una competizione che garantisce appaganti sportellate e scorrettezze, ci è sembrata invece perdere un po' di quel focus che rende le sfide in cooperativa molto più divertenti ed originali. Al di là delle modalità di gioco, complessivamente soddisfacenti e varie, è comunque il versante tecnico di The Crew a lasciare ancora qualche perplessità. Se da un lato infatti il titolo Ubisoft stupisce con un design complessivo assolutamente degno di nota, un framerate stabilissimo e modelli poligonali dei mezzi di ottima fattura, dall'altro è ancora la fisica che controlla i vari stili di guida a non convincere del tutto. Le categorie di veicoli sono ancora contraddistinte da un forte effetto pattinamento, che inficia in modo sensibile il controllo del mezzo da parte del giocatore. Ancora incerto anche il sistema di collisioni tra i veicoli, i cui sviluppi sono spesso caratterizzati da traiettorie un po' forzate e a volte testimoni di scenette piuttosto golfe. A dispetto delle sue imperfezioni e anche alla luce dei quasi due mesi a disposizione del team di sviluppo per cercare di porvi rimedio, il modello di guida prepotentemente arcade di The Crew sembra comunque riuscire a garantire quell'appagamento ludico che solo i racing più istintivi ed immediati riescono a fornire, forte soprattutto di una curva di apprendimento che con la giusta applicazione vede migliorare le proprie prestazioni già nel giro di un esiguo numero di gare. Grazie ad un'ulteriore prova su strada, The Crew conferma in pieno le ottime sensazioni circa la ricchezza e la varietà della sua formula ludica, con elementi social che tuttavia sembrano esaltarsi più nella sua componente cooperativa che in quella competitiva. Se perfezionato in alcuni dei suoi limiti tecnici entro il prossimo 11 di novembre, insomma, l'ibrido MMO Racing di Ivory Tower potrebbe rivelarsi un'ottima sorpresa per tutti gli amanti del lato più arcade dei giochi di guida, con la giusta dose di personalità necessaria a non risentire dell'affollamento che il genere si appresta a vivere nei prossimi mesi.